Pensateci, cellulare, computer, tablet, un blocco per prendere appunti, un'agenda per le note, ho già riempito uno zaino intero ma da oggi non più perché mi è capitato per le mani questo mini computer di cui vi parlerò in questo video Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi voglio parlare di questo mini computer, 7 pollici di schermo, Windows 10, touchscreen completamente girevole con un sacco di cose che tipo mi sta seguendo da due mesi ovunque vado, non perché sia uno stalker ma perché è un ottimo accessorio ed è veramente fantastico, mi sta trovando benissimo per far tutto Sulle circostanze per le quali sono venuto in possesso di questo oggettino, grissiamo su questo video ma praticamente diciamo l'ho ottenuto durante il mio ultimo viaggio in Cina e ho cominciato subito a utilizzarlo già nell'aeroporto tornando e in tutto il viaggio in aereo perché ha un'ottima batteria ma adesso arriviamo anche alle specifiche innamorandomene sempre di più sia per la produttività sia per l'intrattenimento, banalmente Netflix a che ho detto devo farci un video assolutamente, cerco il nome su Google e ho scoperto che è in vendita adesso tra l'altro questo qua che mi hanno dato a me era un portativo sperimentale quindi questo qui ha dei problemi che poi sono stati risolti, ho visto al lancio su Indiegogo sì perché è tipo un kickstarting su Indiegogo ma parliamo di specifiche come vi ho detto schermo 7 pollici che lo rendono veramente tascabile perché è una cosa del genere 7 pollici 1080p IPS, c'è uno schermo IPS su questa roba ha dei colori infatti ottimi, un angolo di visione veramente buono, dei neri belli profondi è uno schermo che certamente non si può configurare come fascia bassa, è veramente un ottimo schermo schermo che tra l'altro, vi mostro questa cosa, schermo che tra l'altro, adesso l'ho anche acceso così almeno vedete qualcosa invece di tutto nero ruota a 360 gradi per lavorare in configurazione da mini computer portatile in configurazione boom a tenda, tipo se sto guardando un film su Netflix lo appoggio così sul tavolo oppure anche così a seconda di come preferisco perché tanto lo schermo si gira automaticamente a seconda di come lo appoggio oppure addirittura boom me lo chiudo del tutto ed è un tablet va in modalità verticale forse, yes, va in modalità verticale e abbiamo un tablet con Windows 10 guardate che roba, cioè è fantastico ovviamente disattivando la tastiera nel momento in cui si passa in modalità tablet vedete posso premere cose e non succede niente però se clicco compare la tastiera su schermo perché lo stiamo utilizzando come un tablet anche se sto così, se sto qualsiasi angolo sopra i 180 gradi disattiva la tastiera perché così anche se tipo ce l'ho sulle gambe mi sto guardando un film su Netflix da letto non so o in divano e comunque ce l'ho appoggiato così con la tastiera verso il basso non si preme niente ma abbiamo sempre la tastiera su schermo è geniale, è veramente fantastico in tutto e per tutto ha il bluetooth, ha il wifi 2.4 GHz e 5 GHz per essere veloce questo no purtroppo, il mio no perché era un prototipo sperimentale e aveva solo il wifi 2.4 ma ho visto che quelli che hanno in vendita gli hanno fatto l'upgrade come hanno fatto l'upgrade adesso per altre due versioni questa qua è la versione base con un Intel Cherry 8350 o 8350 che lo vogliate chiamare però ho visto esistere anche la versione Pro con il processore più potente un Intel N4200 e la versione invece 4G questa qua deve essere molto interessante perché cacciargli dentro una sim e averlo sempre connesso a internet deve essere molto molto interessante in mobilità che però non riesce ad avere il N4300 perché non c'era spazio hanno detto proprio non ce la facevamo a farceli stare sia il processore potente sia la connettività LTE devo dire questa versione base che possiedo che ha solo il wifi 2.4 GHz quindi wifi comunque che è più lento, ha un modulino wifi che non ha il massimo e in più anche il processore sfigato non ci si può lavorare tanto lo vedo che delle volte si affatica ma non si affatica per tutti i task normali di tutti i giorni non so devo gestire l'email, devo scaricare la memoria della macchina fotografica su un hard disk devo fare copie di file, magari anche fare un leggero ritocco a una foto connettermi con TeamViewer al computer di casa e quindi avere tutta la potenza del computer di casa su 7 pollici tanto lo schermo è 1080p quindi le cose sono piuttosto piccole perché sono 7 pollici ma abbiamo sufficiente risoluzione per vedere tutto quanto anche con TeamViewer riuscivo a leggere i nomi delle icone dello schermo QHD che ho qua streamato attraverso l'internet a distanza di chilometri abbiamo il bluetooth, tastierino abbastanza morbido, piuttosto simpatico non è una tastiera scomoda da utilizzare è un po' piccola certo però sono 7 pollici il form factor non è che poteva inventarsi una tastiera da Mac Pro 15 pollici abbiamo anche un piccolo mausino qua con tasto sinistro, tasto destro e il puntatore qua con lo scorrimento del dito e mi sono trovato delle volte anche a utilizzarlo certo che andare di touchscreen è troppo più comodo e quindi per la maggior parte delle cose si finisce a scrivere sulla tastiera ma a toccare lo schermo per usare i mouse c'è il bluetooth, non so se ve l'ho già detto ha una piccola webcam qua di fianco nello schermo la rotazione automatica come vi ho detto che adesso non funziona perché sono in modalità computer ma se lo girassi all'indietro boom, guardate come si ruota all'arrivo ha installato Windows 10 in S-MOD modalità S che cosa vuol dire? è la modalità secure, modalità sicura di Windows praticamente è una versione che Microsoft distribuisce per la quale puoi installare applicazioni solo provenienti dal Microsoft Store che è uno schifo perché non puoi installare niente ci hanno giusto per grazia di Dio una versione di VLC che funziona a gran poco non puoi installare Chrome, non puoi installare nessun browser diverso da Edge ma è veramente facilissimo andare nelle impostazioni e con un click si aggiorna a Windows 10 Home normale senza neanche riavviare, non c'è bisogno neanche di riavvio semplicemente gli dici sbloccami e fammi installare quello che voglio penso sia una scelta di sicurezza appunto è modalità S parliamo di batteria, la batteria mi ha veramente stupito perché dura un sacco, vi giuro a parte che qua di fianco abbiamo la USB-C che fa sia da carica con fast charge sia da USB-C per connetterci cose ho connesso la macchina fotografica l'altro giorno quindi è sia un input sia la ricarica vi ho detto ricarica veloce non saprei dirvi in quanto tempo si ricarica perché non l'ho cronometrato però visto che attaccandolo anche 20 minuti si fanno tranquillamente più di un'oretta di utilizzo che comunque per un computer con Windows 10 roba che gira in background cioè non è un tablet Android dove stai usando un'applicazione alla volta questo qui è multitasking è un pesante come Windows perché Windows è pesante per le risorse quindi la batteria va giù vi stavo dicendo però che con una ricarica completa 100% prima dello spegnimento sono riuscito a guardare 7 episodi di una serie TV uno al giorno tra l'altro quindi è durata una settimana la batteria non spegnendo il computer da un giorno all'altro ma semplicemente mettendolo in stand by così cioè proprio chiuso il coperchio stand by lo riapro il giorno dopo boom episodi della serie TV lo richiudo sono riuscito a guardarci 7 episodi di serie TV quindi all'incirca 7 ore veramente mi ha lasciato positivamente stupito non so se la versione con il processore più potente abbia un impatto magari a ribasso in termini di batteria certo che si carica con la USB-C ragazzi powerbank e siete sempre on anche in mobilità concludendo mi direte ok tutto bello tastiera un po' piccola va bene ma cosa me ne faccio di una cosa del genere cioè Netflix lo posso anche guardare sul telefono certo però ragazzi questo qui ha Windows 10 vi permette di fare un sacco di cose che da telefono non potete fare ad esempio ad esempio volate con i droni fate racing boom ho installato Betaflight su questo computer perché è un computer a tutti gli effetti quindi è un mini computer con Betaflight che posso portare sempre con me quando vado a volare riprogrammare i droni al volo cambiare i PID calibrare l'accelerometro cambiare delle impostazioni e gestire tutto un Betaflight completo da Windows in completa mobilità nella tasca del giubbotto fate fotografia o qualsiasi cosa che necessiti di scaricare schede SD al volo mentre siete in giro abbiamo lo slot micro SD qua sul lato per connetterci alle schede SD basta un adattatore di quelli da MacBook con la USB-C abbiamo anche una porta USB 3.0 full size di quelle grosse e blu quindi potete attaccarci giù un hard disk le schede di memoria e scaricarle al volo perché avete Windows esplora risorse potete trascinare le cose da una cartella all'altra e tutto questo il telefono non ve lo fa fare perché non hanno mai implementato queste cose su Android mi sono trovato l'altro giorno ad essere fuori casa dovevo editare una foto per Instagram non ho installato Adobe Suite su questo computer perché secondo me mi ucciderebbe la batteria e comunque non ce la farebbe probabilmente girare come potenza del processore ma come vi dicevo hanno inventato TeamViewer ho attaccato la scheda SD ho scaricato le foto qua con TeamViewer le ho passate sul computer potente qua e con tutta la potenza di questa roba trasmettendo via internet su un ottimo schermo 1080p ho potuto lavorare con Lightroom come se avessi tutto questo nella tasca perché tanto finché non stai montando video che ti serve la sincronia perfetta se stai lavorando su Lightroom TeamViewer va benissimo quindi non lo so è tipo per me per l'utilizzo che ne faccio io per le mie esigenze è tipo la cosa più utile che ho trovato negli ultimi mesi è diventato il mio gadget chiamiamolo anche se un gadget non è preferito volevo solo mostrarvi un'ultima cosa che se lo giro così mi viene una notifica che mi chiede se voglio passare in tablet mode se rispondo di sì esce fuori la tablet mode di Windows quella là a piastrelloni ancora derivante da Windows 8 che magari quelli che non hanno un tablet con Windows hanno dimenticato ma che esiste ancora è parte di Windows ed è la tablet mode che è più facile da usare ha i pulsanti un po' più grandi per andare col dito questa è la tablet mode di Windows 10 nel momento in cui lo ritorno così notifica vuoi uscire dal tablet mode? sì e boom torniamo in modalità desktop normale da computer penso di aver detto tutto per questo video è tutto vi lascio in descrizione il link a Indiegogo non me ne tolgo in tasca niente se lo comprate o meno volevo solo mostrarvi questa cosa perché sono veramente innamorato di questo piccolo cosettino e della sua potenza e versatilità se non lo spacco sul tavolo per questo video è tutto pollice su se vi è piaciuto ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.